1. Insieme con la vostra famiglia sarete trasferiti. 2. Bisogna portare con sé A. Viveri per almeno 8 giorni. B. Tessere annonarie. C. Carta d'identità. Bicchieri. 3. Si può portare via A. Valigetta con effetti e biancheria personale. Coperte. B. Denaro e gioielli. 4. Chiudere a chiave l'appartamento e prendere con sé le chiavi. 5. Ammalati. Anche casi gravissimi non possono per nessun motivo rimanere indietro. 6. 20 minuti dopo la presentazione di questo biglietto la famiglia deve essere pronta per la partenza. 5. Medio Dio di Pienso. Come si è pacingi al fondo. 5. Un libro da tra i Hallo.